Per i ragazzi del Marconi di Campobasso è stata una sorpresa. Si sono presentati in aula pensando di dover far lezione come gli altri giorni e invece sono stati coinvolti dai docenti in una gara a gruppi su saldatura e robotica. In entrambi i casi, in differenti aule, gli studenti si sono cimentati praticamente con materie che studiano ogni giorno, ma questa volta con un obiettivo individuare la squadra migliore e lo studente migliore da mandare a Milano alla selezione nazionale organizzata dal Comau. La gara consiste in sostanza che queste quattro formazioni devono programmare questi robot che sono dei veri e propri robot aziendali, proprio veri, perché sono un po' più piccoli diciamo come dimensioni, ma sono agli effetti proprio dei robot industriali. L'hanno dovuto programmare a compiere alcuni determinati tipi di azioni. In questo caso abbiamo simulato un'azienda che sta nel settore della logistica, quindi carico-scarico pezzi e la gara consiste nelle quattro squadre chi impiega meno tempo a caricare e a scaricare questi pezzi. Nell'aula della saldatura abbiamo visto un'altra gara, di che si tratta? Lì c'è un'altra gara, anche quella molto interessante, proprio per i meccatronici, anche questi. Lì c'è il World Simulator e un simulatore di saldatura, quindi lì facciamo proprio alcuni tipi di saldatore come TIG, TAG, digiunto, ora senza entrare a livello tecnico. I ragazzi si dovranno sempre in quattro squadre raggruppare, quindi sfidarsi tra di loro e poi competere, da qui uscirà un solo vincitore e poi competere a livello nazionale. Non solo una divertente gara tra classi, ma anche un'importante lezione didattica e di vita. Lavorando tutti insieme ad un obiettivo comune, si vuole stimolare non solo la solidarietà tra i ragazzi, ma anche un modo comune di trovare soluzioni e agire per raggiungere l'obiettivo, una cosa che il Marconi pone da sempre al centro dei suoi insegnamenti. Facciamo il possibile perché sia così, perché la formazione dei nostri studenti sia sempre più rispondente alle richieste del mercato del lavoro e fornisca anche le basi per un'eventuale loro formazione futura nell'università o negli ITS. Si sono messi in gioco nelle loro capacità, nelle loro competenze tecniche acquisite durante lo studio in questo istituto e hanno trovato le risorse per riuscire a confrontarsi con una situazione reale, anche se simulata, che è quella della robotica industriale in un settore e della saldatura nell'altro.